Musica Con Viaggio in Molise facciamo tappa all'Isis Cuoco Manuppel, esattamente nella sede del Liceo Artistico, dove in programma un seminario davvero particolare. Si parla della Divina Commedia, dell'opera portata in scena qui all'Auditorium di Sernia, che poi ha registrato grande successo nelle altre tappe proposte nel resto d'Italia. Tornano i protagonisti, si confrontano con gli studenti per dare una chiave di lettura diversa della grande opera di Dande Alighieri. L'Inda Berardi, docente dell'Isis Cuoco Manuppel di Sernia, è una giornata importante, in particolare per gli studenti del Liceo Artistico Manuppella, un modo diverso, originale, per studiare la Divina Commedia. Sì, è vero, è un approccio molto particolare con la Divina Commedia, con il teatro, partendo dalla definizione che è teatro e vita, conoscere, sapere, togliere i ragazzi dal disagio, riportarli attraverso il sapere, verso una vita ricca di storia, di tradizione e di letteratura. I ragazzi non sono stati spettatori passivi, si sono anche preparati, hanno messo in campo anche le loro scenografie, abbiamo visto qui a scuola. Sì, abbiamo ricostruito nella nostra palestra scolastica alcuni pezzi di scenografia realizzati, ideati, progettati e realizzati dai nostri ragazzi durante l'attività del laboratorio teatrale. Il laboratorio teatrale in questa scuola è nato dieci anni fa e ancora riesce ad accogliere più di 150 ragazzi di tutte e due le scuole, sia del Liceo Artistico Manuppella che del Liceo Cuoco. I ragazzi partono dall'ideazione, progettazione e realizzazione di opere, studiando testi teatrali. La scelta avviene all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno si fa ogni volta una rappresentazione teatrale, quindi un impegno particolare che parte dalle materie teoriche, culturali, fino ad arrivare alle materie di laboratorio e progettazione della scuola. Porniamo alla Divina Commedia, come hanno preso, come hanno accorto quest'idea ai ragazzi? In una visione molto moderna. Tutti i ragazzi hanno visto già l'anno scorso la rappresentazione teatrale. Lo studio è stato fatto dalle professoresse, impartito dalle professoresse di italiano che hanno curato la parte dantesca, evidenziando sempre di più tutto quello che avrebbero dovuto vedere durante la rappresentazione. I ragazzi sono arrivati preparati allo spettacolo e la stessa cosa per oggi. Le docenti d'italiano hanno fatto studiare ai ragazzi vari aspetti della Divina Commedia, hanno preparato delle domande insieme ai ragazzi, le stesse domande saranno fatte ai componenti della compagnia teatrale. Andrea Ortis, reduce dal tour che ha registrato ampio successo in tutta Italia, parliamo naturalmente della Divina Commedia. Siete partiti dall'auditorium di Sernia, avete girato tutta Italia. Ora si ritorna a Sernia per entrare nelle scuole, un modo sicuramente originale per raccontare l'opera di Dante. Chi meglio di Andrea Ortis, coautore dell'opera, interprete di Virgilio e regista. Sì, ripartiamo dalle scuole e in verità continuiamo un viaggio nelle scuole. La verità è anche che questa Divina Commedia ci rimane un po' pesante dalle scuole. Allora forse andava cercato un linguaggio che potesse snellire qualcosa che di bello è di per sé stesso e che ha inventato un italiano, Dante nel Trecento. I linguaggi chiaramente moderni del teatro, del musical in particolare, ovvero di una forma artistica che veda una mixture di canto, recitazione, danza, proiezioni animate 3D, musiche, composizioni orchestrali, è stato un bel modo accolto in una maniera straordinaria. Negli ultimi tre anni di tournée siamo su milioni di spettatori, 700.000 studenti in tutta Italia che sono venuti. Non faccio questi numeri per citare con orgoglio un obiettivo raggiunto, piuttosto la bellezza di condividere questo patrimonio artistico con tutta questa gente, anche giovane, che lo apprezza molto. Ecco, infatti la particolarità di questo tour è che spesso e volentieri avete incontrato le scuole registrando un successo strepitoso, un successo che poi è stato bissato durante le serate perché è stato quasi sempre sold out, almeno qui a Esernia sicuramente. Sì, qui a Esernia come a Trieste, a Bologna, a Genova, a Milano, a Reggio Calabria, a Catania, dove andremo, a Catanzaro, a Lecce, a Bari, insomma è andata davvero molto bene. Questo la dice anche Lunga sul desiderio che ha il pubblico di trovare un teatro, non dico impegnato, ma anche di ricerca. La gente non ha voglia solo di ridere, non ha bisogno solo dei comici. Quando viene messa nelle condizioni di apprezzare un lavoro che ha previsto tra l'altro tre anni di lungo studio, lo apprezza, non solo, lo apprezzano anche i giovani. E questo spesso va detto, si reputano i giovani, insomma, un bacino un po' deficiente, un po' non abituato all'ascolto. Non è assolutamente così. Dobbiamo impegnarci noi come professionisti del teatro e del linguaggio, se vogliamo trovare giusti linguaggi. È un impegno che dobbiamo mettere in atto. Il senso della Divina Commedia nelle scuole e di questi seminari che stiamo facendo, adesso siamo reduci da seminari fatti a Pescara, a Rovigo e in tutta Italia, è proprio quello di iniziare un lavoro con i ragazzi, educando entrambi, noi, loro e loro noi, all'ascolto di un teatro differente. La qualità poi paga, non nell'immediato, ma in un percorso più lungo, che però diventa anche più entusiasmante. Ne abbiamo già parlato con Andrea Ortis, c'è anche un po' di Molise in questa commedia, la Divina Commedia, ed ha un ruolo importante. Lara Carissimi, Molisana, è produttore esecutivo e scenografo di questa opera. Un ruolo importantissimo anche perché, diciamocelo, quando lo spettatore entra al teatro, come è accaduto all'auditorium di Sernia, la prima cosa che colpisce è proprio la scenografia. Sì, sicuramente è una scena d'impatto, una scena importante, poi portata in uno spazio come quello dell'auditorium di Sernia, che è uno spazio grande, maestoso dal punto di vista di palco proprio, sia come grandezza del boccascena che come altezza. Quindi lo spettatore sicuramente si trova di fronte ad uno scenario che è difficile portare nei nostri teatri, forse è la prima volta che a Sernia si può vedere questo. Sono molto felice da produttore esecutivo di ripartire anche quest'anno da Isernia, che è una città, una regione che ci ha colto benissimo. Abbiamo portato un risultato fantastico lo scorso anno, sia con le scuole che con i serali, quindi il pubblico ha risposto in modo veramente fantastico. E quest'anno c'è una grande attesa anche di nuovo su questo gennaio. Ed ora ci sono questi incontri con le scuole, in realtà già c'erano stati, a parte già ci sono stati in varie parti d'Italia, c'erano stati proprio con questa rappresentazione, perché allo spettacolo hanno assistito tantissime scolaresche. Ora ci sono dei seminari, un modo comunque diverso per studiare Dante. Allora, il seminario è nato lo scorso anno, tra l'altro sulla conclusione del tour, ed è nato proprio dall'esigenza di voler aiutare lo spettatore ancor di più a comprendere lo spettacolo. Sicuramente la Divina Commedia è un testo che conosciamo un po' tutti, chi più chi meno, ma le rimanescenze scolastiche sono forti. Quindi quest'anno invece abbiamo deciso di tracciare i seminari con le scuole e con gli adulti anche, quindi in due turni, diciamo mattina e pomeriggio, su tutte e tutte le tappe, quindi anche Sernia. Che rapporto si è creato con questi studenti? Il rapporto con i ragazzi è bellissimo, per alcuni aspetti molto di più del pubblico adulto, che a volte è un po' più freddo e un po' più tirato, invece i ragazzi hanno voglia, questa è la cosa più bella, hanno voglia di conoscere, hanno la passione ancora pura che spesso noi, secondo me, teniamo un po' dentro e facciamo finta di non amare. Qui siamo in un liceo artistico, infatti ci sono anche alcune opere che richiamano la Divina Commedia, chiaramente sarai bombardata di domande, insomma qualche segreto di questa scenografia, cosa l'ha ispirata e materialmente quanto tempo ci è voluto, perché abbiamo visto che ci sono dei meccanismi molto complessi. Allora, la scena ha diversi aspetti che andrebbero analizzati. Sono felice di essere qui, già l'anno scorso con i ragazzi di questo liceo abbiamo fatto una mattinata proprio a teatro sul palco, quindi alcuni di loro hanno avuto già la possibilità di vedere il palcoscenico della Divina Commedia e di avere delle spiegazioni sia da parte mia che del direttore tecnico. L'impianto scenico ci sono voluti progettazione circa sei mesi, cinque mesi buoni e laboratori altrettanto, tra elementi decorativi, tra tutta la parte tecnica di palco, insomma, tanto tempo, un annetto complessivo di lavoro. La rappresentazione è riscosso, ampio successo in tutta Italia, in tutte le sue tappe, e si riparte dall'Italia, ma c'è in cantiere l'idea di andare all'estero? Sicuramente sì, sicuramente sì, ci avviciniamo ad una data importante per la Divina Commedia e per Dante, che è il 2021, e quindi i 700 anni dalla morte, le celebrazioni dantesche. Le richieste ci sono, stiamo lavorando, stiamo valutando ogni possibilità per un estero importante, quindi incrociamo le dita per ora. Torniamo al presente o al futuro imminente, siete impegnati in questo periodo anche con un'altra rappresentazione interessante che sarà portata in scene molise, parliamo naturalmente di Van Gogh. Sì, Caffè e Vinzante è un progetto che nasce sempre da un'idea di Andrea Ortis, sul quale già si stava lavorando da un po'. È uno spettacolo differente rispetto chiaramente a Divina Commedia, anche come grandezze sceniche, ma non nascondo che a mio avviso da produttore esecutivo credo che sia altrettanto interessante per il pubblico. Parliamo chiaramente di Van Gogh, ma raccontato in un'altra veste, non quella che ultimamente si sente sempre un po' triste e macabra, e parliamo di un ambiente molto molto coinvolgente, quindi non aggiungo altro, io invito solo gli spettatori ad andare a teatro, a Campobasso e a Esernia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.